Quando la passione è più grande di tutto il resto. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di uno steward marocchino che insieme alla sua nazionale sta vivendo un sogno chiamato Coppa del Mondo. Stava lavorando la magica sera di martedì proprio all'Education City Stadium dove si giocava Marocco-Spagna. Il video ci fa vedere come negli ultimi istanti del recupero dei tempi supplementari il ragazzo cerca di rimanere impassibile davanti a quella impresa sempre più vicina. Ma rigore finale con la panica comunemente detto cucchiaio della stella dei leoni dell'Atlanta Schraf-Achimi che ha mandato ai quarti il Marocco condannando la squadra allenata da Luis Enrique e il giovane si è lasciato andare in un pianto di gioia che ci ricorda perché questo sport sia il più bello del mondo.